Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, riaccoci qui ore 13.30 anche oggi per parlare insieme di Fantacalcio. Martedì abbiamo parlato, abbiamo visto insieme la Toti 11 certezze stagione 21-22, oggi è il turno invece di chi ci ha fatto arrabbiare molto quest'anno, la Toti 11 flop. Andremo a vedere porta, difesa, centrocampo, attacco, i nomi che a inizio hanno dovevano fare delle cose e poi invece hanno fatto tutt'altro. Per motivi diversi ovviamente li andremo ad analizzare nel dettaglio nome per nome, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e ricordatevi che poi settimana prossima vi farò uscire anche il video della Toti 11 degli underdog. I nostri cari underdog andremo a vedere gli 11 migliori underdog, non scommesse rivelazioni, underdog che come sapete sono due cose diverse, quella l'andremo a vedere la settimana prossima. Detto questo andiamo a vedere la Toti 11 flop di quest'anno. Eccola qui ragazzi, eccola qui. Allora, in porta Stracoscia. Perché Stracoscia? Beh, allora, devo dire che a inizio anno sostanzialmente c'erano tre top che venivano più o meno messi sullo stesso livello, che erano Szczesny, Andanovic e Magnano. Sicuramente tra i tre Andanovic è quello che ha un po' deluso di più, ma non mi sento di metterlo comunque come flop perché ha subito pochi gol. C'erano poi i portieri del Napoli, Ospina e Meret, che hanno fatto un'ottima stagione, non straordinaria dal punto di vista della media vuoto, ma a livello di clean sheet ottima. E poi c'erano i due portieri delle Romane. C'era anche Musso, ma secondo me Musso in tante leghe non è stato pagato tantissimo. Mentre invece con l'arrivo di Sarri e con l'arrivo di Mourinho c'era questa sensazione, questa idea che le due difese delle Romane avrebbero fatto bene. Devo dire che fino a un certo punto della stagione, in questa Totti 11 flop avrei messo Rui Patricio senza dubbio, perché in media Rui Patricio è stato pagato più di Stracoscia. Però devo dire che poi nella seconda parte del giorno di ritorno la Roma dietro si è un po' ripresa. E quindi alla fine ho scelto di mettere Stracoscia. Stracoscia-Reina, ovviamente, la coppia. Perché chi ha preso la porta della Lazio, che era stata la porta che io avevo sconsigliato assolutamente, perché per me il passaggio da una difesa a tre, come quella di Inzaghi, a una difesa a quattro, non è un processo che può durare due-tre settimane, a meno che tu non abbia dei campioni come aveva Sarri a Napoli, dove con Koulibaly nel giro di tre settimane ha fatto capire come ci si difendeva quattro. Ecco, la Lazio i campioni non li aveva dietro e si è visto. Si è visto, soprattutto in un determinato momento della stagione. Per me chi ha preso quest'anno i portieri della Lazio ha floppato alla grande. E quindi alla fine ho optato per Stracoscia. Difesa a tre. Gossens, Mancini, De Frij. Allora, qui bisogna fare un attimo delle considerazioni. Perché Gossens? Beh, Gossens è sfiga. C'è poco da aggiungere, ragazzi. Gossens era un giocatore che nelle ultime stagioni era sempre stato bene, da un punto di vista fisico. Gossens era ed è un giocatore che con il modificatore classico, ma soprattutto dinamico a sei fasce, ti fa la differenza più a volte di un top in altre parti. Perché un gol di Gossens vale doppio. Cioè, come di Gossens, come di Teo, come di altri top dietro, come di Quadrado. Cioè, se Gossens fa sei gol, sono sei gol, come altri sei gol. Ma in più spesso, quando Gossens fa gol, tu poi, se hai fatto una difesa, non dico ottima, ma decente, intorno a Gossens, prendi anche i tre punti di mod. Quindi sono sei gol che diventano dodici. Se Gossens fa dieci assist, se fa otto assist, sei assist, anche lì tutto poi si riversa sui bonus da mod. Quindi, è stata sfiga, l'infortunio all'Atalanta, la gestione dell'infortunio all'Atalanta, pessima. È tornato a dicembre, ricaduta. Poi c'è stato il passaggio all'Inter, ok? E anche lì è stata sfiga, perché a inizio anno nessuno poteva prevedere che sarebbe andato all'Inter, come nessuno poteva prevedere l'esplosione di Perisic, che ovviamente lo ha limitato nella seconda parte di campionato. Quindi, Gossens è nei flop, ma non è un flop dovuto, come dire, a un errore di valutazione del giocatore, ma alla sfiga, ok? Mancini e De Frey, invece, il discorso è diverso. Mancini e De Frey sono proprio due flop. Cioè, Mancini era un giocatore che io non me lo aspettavo a livelli incredibili di media voto, ok? La media voto di Mancini sicuramente è negativa, io me l'aspettavo un po' meglio, ma devo dire che non è che mi aspettassi una media alla Tomori o alla Koulibaly. Quello su cui mi ha deluso tanto Mancini sono i bonus. Cioè, i bonus che ha fatto un Ibanez, ma che addirittura ha fatto anche Smalling, ecco, tutti quei bonus sommati li avrebbe dovuto fare Mancini. E li avrebbe dovuti fare Mancini perché il precampionato ci aveva dato delle indicazioni importanti. Ci sono state 3-4 partite dove segnava sempre. Per fortuna io Mancini non l'ho comprato in nessun fantacalcio, ma non mi nascondo, ve lo dico onestamente, era uno di quelli che avrei comprato di più. Non l'ho comprato solamente perché in tutte le aste che ho fatto è andato a cifre troppo alte, è andato addirittura oltre al 7%, all'8%. E allora non l'ho comprato per quel motivo, ma se io avessi avuto la possibilità di comprare un Mancini al 5-6%, l'avrei comprato senza dubbi. Quindi sarebbe facile da parte mia dirvi io ho fatto un sacco di fantacalci e Mancini non l'ho preso da nessuna parte perché sapevo che avrebbe flopato. No, io sapevo che non sarebbe stata una certezza dal punto di vista del modificatore, quello sì, ma dal punto di vista dei bonus io mi aspettavo come minimo 3-4 gol. Lo dico chiaramente. È stata una delusione, è stata una delusione onestamente anche difficile da spiegare perché a saltare ci è sempre andato. Gli errori dietro non mi interessano, capire il motivo per cui non abbia mai segnato è dura. È dura e paradossalmente l'anno prossimo Mancini se le cose non dovessero cambiare dietro, ma occhio perché la Roma per me ha un acquisto importante dietro, lo farà sicuramente, potrebbe essere un bel acquisto Mancini proprio in virtù della brutta stagione che ha fatto quest'anno. E poi c'è De Frij. Ecco, De Frij secondo me è un discorso ancora più complesso di Mancini perché De Frij non ha fatto nulla dal punto di vista del bonus, ma quello ci può anche stare, sono annate così, ma ha avuto un'involuzione pazzesca dal punto di vista del voto. E qui però bisogna fare un discorso su due piani diversi. Perché da un punto di vista superficiale, ed è anche vero quello, De Frij ha avuto un'involuzione come giocatore. Cioè io, ormai sono mesi che dico che se fossi l'Inter mi tolgo De Frij, metto Bremer lì e sono a posto. E questo è vero. Cioè che De Frij abbia giocato male quest'anno è verissimo. È assolutamente... Corrisponde alla verità. Ricordo la partita del derby contro Giroud, ma potrei ricordare altre 3-4 partite dove è stato veramente negativo. Ecco, ok. Anche contro l'Empoli in casa, se non sbaglio. Insomma, ne ha avute tante battute a vuoto. Quindi De Frij male. Altra cosa importante e questo secondo me è importante anche per altri giocatori in chiave prospettica dell'anno prossimo è che ormai abbiamo capito che quando si dà il voto al difensore si guarda molto il difensore appariscente. Il difensore che fa l'anticipo. Il difensore che fa la scivolata. Il difensore che va uomo su uomo. E non è un caso che giocatori come Bremer e Skriniar ad esempio corrispondano a questa tipologia di giocatore. Il giocatore invece senza uomo. Il libero. Il defrae della situazione. Posto che defrae abbia giocato male. Ma a parità di rendimento tra un libero dico libero perché il centrale di una difesa tre che di solito non ha l'uomo. E invece il difensore che va sull'uomo a parità di rendimento c'è una differenza di voto. Almeno io ho notato questo. Perché comunque l'anticipo la scivolata il colpo di testa lo scontro uomo su uomo la marcatura è più evidente che la marcatura dello spazio. Cioè difendere l'uomo alza il voto più del difendere lo spazio. Ci sono partite dove spesso il centrale di una difesa tre non va mai sull'uomo ma è fondamentale dal punto di vista dell'equilibrio. Chi ha giocato a calcio lo sa. In una difesa tre il centrale il vecchio libero è l'uomo più importante perché è quello che è detto ai tempi di come si devono muovere gli altri che sia una difesa tre uomo su uomo che sia una difesa tre a zona con attenzione agli uomini ma comunque è quello che decide quando salire quando scendere che deve andare a chiudere tutti gli spazi che gli altri due braccetti lasciano vuoti che deve anche richiamare gli esterni quindi dal punto di vista calcistico è un ruolo chiave da un punto di vista del voto al fantacalcio è un ruolo che viene sottostimato sottovalutato e quindi anche in chiave prospettica mi sento di dire occhio a chi non va tanto sull'uomo ma a chi gestisce di più la difesa parlo delle difese a tre non so se siete d'accordo è una cosa che ho notato centrocampo a quattro allora io qui ve lo dico già avrei potuto fare senza problemi un centrocampo solamente con i nomi della Roma e della Lazio alla fine non ho voluto mettere Mkhitaryan perché qualche cosina l'ho anche fatto nel giorno di ritorno non ho voluto mettere Luisa Alberto perché anche lui un po' si è ripreso ma per me restano comunque due semiflop per il prezzo a cui sono andati inizio anno sia il mago sia Mkhitaryan e allora ho scelto Veretù e Zaniolo qui non si scappa allora Zaniolo è stata la delusione personale più grande in realtà io l'ho comprato solamente in un fantacalcio proprio perché vedendo i miei video tutti sapevano che io credevo in Zaniolo quindi paradossalmente Zaniolo è andato a un prezzo altissimo e io Zaniolo l'ho preso solamente in uno per il gusto di averlo ma oltre il 9% 10% io Zaniolo non l'ho comprato però io su Zaniolo credevo e credo tuttora il problema dell'analizzare la stagione di Zaniolo è che se voi avete visto le partite della Roma cavolo spesso Zaniolo è stato uno dei migliori in campo cioè dal punto di vista del gioco Zaniolo ha avuto tante sliding doors tanti bivi che sono sempre andati nella direzione sbagliata ricordo il gol annullato all'ultimo minuto per il fallo di Abram fischiato prima ricordo ad esempio il rigore fischiato alla Roma contro lo Spezia con Zaniolo che sta per fare golle e gli arriva il calcio in faccia quello è un altro gol ricordo i pali ricordo le traverse ricordo un miracolo se non ricordo male nel derby che va a fare Reina mi sembra di ricordare insomma Zaniolo in una stagione diversa avrebbe potuto fare tranquillamente almeno 5-6 gol in più ma non li ha fatti non li ha fatti e non solo è stato uno dei giocatori della serie A più ammoniti anche qui bisognerebbe aprire un discorso molto più ampio cioè io credo che meità dei cartellini di Zaniolo se la sia meritata e se c'è un aspetto dove deve migliorare è l'aspetto emozionale emotivo deve iniziare a gestire le emozioni dentro il rettangolo di gioco ok essere voglioso di dimostrare di essere forti dopo due infortuni ok voler dimostrare di essere un determinato tipo di giocatore a certi livelli ma non puoi ad ogni decisione arbitrale contraria reagire in un certo modo ma va anche detto che certi cartellini gialli dati a Zaniolo ad altri giocatori non vengono dati io ho visto e chi ha gli occhi lo vede ho visto giocatori dire ben di peggio agli arbitri rispetto a un ma che fallo hai fischiato perché Zaniolo è stato ammonito anche per aver detto ma che fallo è ma che cosa hai fischiato ho visto giocatori dire parolacce insultare a due centimetri dell'arbitro e non essere neanche ammoniti lo fa Zaniolo e viene sempre ammonito poi ripeto lui ha le sue colpe ma io credo che le stesse cose fatte dall'altro giocatore 5-6 cartellini in meno le avremmo avuti detto questo tolto il discorso dei cartellini Zaniolo resta un flop resta un flop sia per il potenziale che ha a livello calcistico e sia soprattutto per il prezzo a cui è stato pagato in tante aste l'altro nome che faccio nella Roma è Veretù Veretù è un flop perché soprattutto per chi ha fatto l'asta a fine mercato perché se avete fatto l'asta inizio campionato è comunque un mezzo flop ma non così flop come se lo avete fatto l'asta inizio settembre perché se vi ricordate Veretù fece una partita pazzesca a inizio del campionato dove segnò dove praticamente si andava a inserire sempre in qualsiasi azione offensiva e molti guardando quelle partite quella partita soprattutto si erano fatti un'idea di un Veretù al centro del progetto di Mourinho cosa che poi si è rivelata assolutamente il contrario con l'acquisto mezzo flop anche quello di Oliveira nella sessione invernale Veretù resta un flop perché ha perso i rigori perché ha perso la titolarità ha fatto qualche bonus ma per il prezzo a cui è andato Veretù per me resta nella toti undici dei flop poi c'è Soriano allora io Soriano ve l'ho messo premessa Soriano io non mi aspettavo la stagione dell'anno scorso ma almeno 3-4 gol me li aspettavo ok che potesse fare meno bene dell'anno scorso io ne ero convinto infatti io Soriano non l'ho comprato da nessuna parte perché andava a un prezzo troppo alto rispetto a quello che secondo me era quest'anno ho visto di Soriano andare al 6 al 7% per me troppo però che facesse 0 gol non me l'aspettavo quello ve lo devo dire ed è per questo che io lo vado a mettere nei flop cioè se avesse fatto 4 gol ad esempio io Soriano non lo avrei mai messo nei flop ma con 0 gol Soriano va nei flop e poi c'è Chiesa Chiesa è un discorso simile a Gossens allora è vero che quando stava bene comunque aveva una fantamedia molto inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto fare Chiesa anche qui per fortuna io Chiesa non l'ho comprato da nessuna parte ma non perché non credessi in Chiesa anzi io da Chiesa mi aspettavo quasi una doppia cifra ok però è andato a dei prezzi assurdi Chiesa in alcune leghe se vi ricordate lo abbiamo analizzato insieme Chiesa è andato al doppio del più pagato tra gli altri centrocampisti cioè avevamo ad esempio Mkhitaryan o Malinoski al 9-10% Chiesa andava al 18-19 in quelle leghe lì ragazzi chi ha preso Chiesa ha perso in partenza Chiesa è un flop per l'infortunio per l'inizio di stagione che ha fatto è un grosso flop soprattutto considerando il prezzo a cui è andato l'anno prossimo Chiesa quanto andrà all'asta è un bel dilemma è un bel dilemma perché sicuramente a livello di infortunio lui potrebbe anche tornare credo intorno a fine settembre inizio ottobre il problema è capire come tornerà vicino a Chiesa c'è un nome che dopo il primo crociato purtroppo ha avuto anche il secondo crociato io spero che non sarà il caso di Chiesa ma la storia della serie A e del calcio in generale negli ultimi anni ci dice che tante volte purtroppo chi ha avuto un brutto infortunio ha un crociato poi ha avuto anche la ricaduta sull'altro io spero che non sia il caso di Chiesa lo spero ovviamente per il ragazzo innanzitutto ma soprattutto anche poi per la nazionale per la Juve in generale ma soprattutto dal punto di vista umano perché è anche un giocatore che secondo me merita tanto e può dare tanto l'ho sempre detto anche in tempi non sospetti in termini di nazionale quando abbiamo vinto gli europei io Chiesa l'anno scorso l'ho preso alla Juve il primo anno di Chiesa la Juve io l'ho comprato c'era tanto scetticismo io ci credevo in Chiesa quest'anno non l'ho preso perché è andato a prezzi troppo alti speriamo speriamo che Chiesa possa tornare ai suoi livelli perché è un giocatore fondamentale e poi arriviamo al tridente vabbè del nome al centro io direi lo lasciamo in fondo no? perché è il nome che come sapete è stato il nome che in un paio di fantacalci mi ha condizionato non mi ha fatto arrivare sul podio quel nome lì sostanzialmente partiamo da Rebic nome pagato intorno al 9-10% io l'ho acquistato in un fantacalcio e non mi nascondo nel dire che ho avuto la fortuna di fare una cosa che solitamente non faccio mai che è quella della coppia ho preso Rebic e Leao ma inizio anno io avevo aspettative allora su Leao avevo delle aspettative più a livello di sorpresa cioè pensavo che potesse essere un giocatore positivo ma non mi sarei mai immaginato la stagione che ha fatto quindi io come ho sempre detto io sono onesto io Leao nel video dell'altro giorno non l'ho messo nelle sculate l'ho sempre detto l'ho preso più per culo che per altro Rebic mi aspettavo di più invece mi aspettavo di più e quindi è stato un flop è stato un flop perché tra i terzi slot comunque Rebic era la più garanzia diciamo e quindi per me è stato un flop Insigne tra i secondi slot per me è flop e secondo me è stato flop anche più di Dybala allora io avevo il dubbio se mettere Insigne o Dybala ma metto Insigne perché tutti quei rigori sbagliati sono troppo troppo importanti cioè Insigne è uno che se lo hai lo metti sempre e quei rigori sbagliati sono veramente tanto tanto pesanti soprattutto i primi i primi che ha sbagliato quindi io Insigne lo devo per forza mettere nella nella Toti 11 flop anche perché in media è stato spesso pagato più di Dybala e quindi qua avevo un po' il ballottaggio Insigne Dybala e alla fine ho optato per Insigne prima di parlare di quel signore che è in mezzo una piccola parentesi volevo dire anche su Malinoski che non è qui perché quest'anno è stato un anno pazzesco da un punto di vista dei flop a centro campo ma in altre annate considerato il prezzo di Malinoski anche Malinoski poteva essere messo qua senza problemi parliamo di Muriel allora Muriel 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 io Muriel l'ho acquistato in due fantacalcio a dieci squadre Asta Classic subito dopo il gol contro il Torino prima del primo infortunio se devo fare una colpa che ha comprato Muriel la faccio a quelli che lo hanno comprato dopo l'infortunio che aveva avuto dopo il Torino quando si iniziava a capire che sarebbe stato fuori almeno un mese un mese e mezzo io lì non avrei comprato Muriel perché quando iniziano così le annate sono dei segnali che l'annata andrà male chi invece onestamente ha comprato Muriel o ha inizio anno prima della prima giornata o dopo la partita del Torino e l'ha pagato da top io non mi sento di fargli una colpa perché Muriel non c'erano motivi per cui dovesse fare male arrivava da un paio di stagioni importanti da una stagione incredibile magari poteva anche non fare come l'anno scorso ma da lì a fare poi quello che ha fatto ce ne passa Muriel è stato un flop in termini di prezzo in termini di resa in termini di gestione penso anche chi ha voluto fare la coppia Muriel Zapata ha avuto le sue difficoltà Muriel resta sicuramente il flop principale in attacco giocatore che tecnicamente non si può discutere ed è per questo il motivo per cui tanti hanno anche aspettato a scambiarlo Muriel perché dava sempre l'idea da un momento all'altro di poter scattare e ci sono stati dei piccoli periodi di due tre partite dove si è visto il vero Muriel però veramente troppo poco troppo poco in termini di rapporto qualità prezzo quindi sicuramente Muriel resta il re dei flop quest'anno in attacco io in due fantacalcio non sono arrivato al podio per colpa di Muriel perché tolto Muriel ho fatto tutte scelte esatte cioè sono andato a prendere gli Scamacca i Pasalic in uno Candreva difesa con Dunfriss in un altro preso insomma scelte tutte corrette in uno però avevo Muriel che pagato il 30% una cosa del 27-30% alla fine poi lo senti quel 27-30% speso male in un altro addirittura che è l'altro dove invece a differenza di tutti gli altri Fanta ero fuori dai giochi già da da un bel po' da un mesetto e mezzo Muriel primo slot Insigne secondo che sono state delle scelte che onestamente tornando indietro rifarei perché Insigne che sbagliasse tutti quei rigori che facesse una stagione simile era abbastanza impensabile che Muriel facesse la stagione che ha fatto idem poi per fortuna ripeto grazie ad altri nomi comunque anche nel Fanta con Muriel Insigne ho fatto una buona stagione perché nella modalità Battle Royale ho finito terzo sono finito terzo poi col calendario ovviamente mi ha affossato però arrivare terzo in una Battle Royale con Muriel Insigne fa capire che poi tutto il resto lo hai fatto lo hai fatto bene il problema è che quando spendi il 45% su due giocatori che flopano clamorosamente e poi è dura è dura andare a podio se non hai un calendario positivo quindi sicuramente io Muriel lo metto qui e penso che tanti saranno d'accordo su questo sono curioso di vedere cosa succederà l'anno prossimo su Muriel perché Muriel è un giocatore che non credo resterà all'Atalanta Zapata appena rinnovato secondo me potrebbe non restare all'Atalanta se dovesse restare in Italia molto dipenderà da dove andrà io credo che Muriel l'anno prossimo lo pagheremo sicuramente meno di quest'anno e potrebbe nuovamente tornare ad essere uno di quei giocatori che ti possono svoltare il fantacalcio dico possono perché abbiamo capito quest'anno che Muriel è un giocatore dalle due facce ma sul fatto che Muriel nell'ambiente giusto con la stagione giusta senza infortuni possa essere un giocatore crack io su quello resto convinto ok quindi su quello resto convinto vedremo vedremo ragazzi che cosa ci porterà il calcio a mercato ragazzi questa era la Totti 11 flop di quest'anno fatemi sapere che cosa ne pensate avreste messo qualche altro nome al posto dei nomi che ho scelto io vi ricordo che la settimana prossima uscirà il video invece della Totti 11 underdog gli 11 migliori underdog di quest'anno al fantacalcio andremo a vedere un po' chi sono perché li ho messi il tipo di stagione che hanno fatto prospettive per l'anno prossimo eccetera eccetera io vi saluto vi ringrazio mi raccomando il like mi raccomando iscrivetevi al canale grazie mille ciao a tutti buon weekend ciao ciao a tutti 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 ciao a tutti